Intro Benvenuti a tutti da Puntost in Punto a questo nuovo video Oggi voglio parlarvi della vicenda più trash che mi sia mai capitata fra le mani E sfruttarla per fare delle riflessioni generali Tutto cominciò così Era una fredda notte d'inverno del lontano 14 dicembre del 2016 Sì, 4 giorni fa, ma va... Era circa l'una di notte quando mi arriva un messaggio in chat da Federix Luxor Il famoso compravenditore di rari Proprietario di una sala aste talmente sfarzosa Che la veranda delle meraviglie può accompagnare solo E il messaggio diceva Aboboom, truffa per Drago Rosa Ora, di solito quando mi arrivano singoli messaggi Ossia da un solo utente riguardante una truffa Non vi do molto peso Ma valutando chi era l'utente in questione Che mi stava appunto scrivendo Ho deciso di leggere e incuriosirmi Il messaggio non diceva come Aboboom avesse truffato questo Drago Rosa O il per... Ma dato che già di recente un altro utente mi aveva detto che Aboboom truffava Decisi di fare chiarezza In pratica Federix mi spiega che lui e Aboboom si conoscevano da circa due anni Anche al di fuori di Abbo Intendendo che parlavano su Whatsapp, Skype E che si fidava ciecamente di lui Tanto da chiamarlo fratello Insomma, chiacchierando Vengo a scoprire che questo Aboboom appunto gli ha truffato un Drago Rosa Che sarebbe un Drago LTD dal valore approssimativo di 3000 crediti Dopo che Federix glielo ha dato in scambia Ancora non riuscivo a capire il perché Ma ero riuscito invece a capire che Aboboom appena ricevuto il Drago Rosa Ossia la refurtiva Era riuscito a disfarsene in fretta al circa 2000 crediti Quindi a 1000 crediti in meno del valore effettivo Pur di toglierselo subito A questo punto Federix mi disse che solo volendo avrebbe potuto sputtanare Aboboom Che peraltro di nome fa Ste Così, dopo vari minuti dalla promessa Il tempo necessario a far capire a Federix come fare uno screen dal cellulare Mi arriva questo E io ero lì tipo What? Ma di che cazzo state parlando? Circoncisione e numeri? Mi sembrava di assistere ad un'asta di ebrei Poi capisco che parlavano della misura del pene E quindi Federix mi aveva mandato quello screen Per sputtanare Stefano, ossia Aboboom Sostenendo che appunto avesse un pene di soli 12 centimetri Insomma, confuso, il giorno dopo ho richiesto Aboboom E lui mi chiede Che c'è Ste E io con una spavalderia pari a Clint Eastwood Nel buono, il brutto e il cattivo Gli dico Lo sai Quindi, in pratica Stefano mi spiegò Che Federix gli aveva chiesto una foto del pisello In quanto appunto Federix è omosessuale In cambio del Drago Rosa Insomma, Drago Rosa per qualcos'altro di Rosa Io analizzai la testimonianza di Aboboom Diceva che Federix fosse gay Controllai il mio archivio ed in effetti c'era annotato Era giunto il momento di chiedere chiarimenti a Federix Da questo scambio possiamo evincere Che i Lannister possono accompagnare solo E che Stefano stava mentendo sul fatto che fosse stato Federix a proporgli questo scambio Insomma, riassumendo Cos'è accaduto in realtà Dopo due anni che i due amici si conoscevano Federix e Stefano Aboboom, dopo aver scoperto che l'amico fosse gay Adesso appunto Certo, siete due fratelli, come dite voi In due anni non salta fuori una cosa del genere Dai, non sparare stronzate Lo volevi truffare? Hai trovato una scusa omofoba per farlo? Ok, ma ammetti Non dire bugie Le menzogne mi irritano Come il fatto che hai detto Che a proporti l'affare Sia stato Federix stesso Mentre gli screen dimostrano proprio il contrario Sei un falso amico Pronto ad approfittarsi alla prima occasione Di una persona che conosci da ben due anni Per dei pixel Non so te Io mi farei schifo Perlomeno hai voluto ammettere la truffa Ma probabilmente lo hai fatto solo perché sapevi Che c'erano troppe prove a suo favore D'altro canto anche te Federix hai sbagliato Cosa ti aspetti? Dei un rarone in mano ad un tunisino che abita in Belgio? Uno che va al Parlamento Europeo a vendere rose In pratica Ah, giusto, vende la rosa Quindi regaliamogli drago rosa, no? Insomma, cosa ci insegna questa folle vicenda? Che nonostante pensiate di conoscere un amico da tanto tempo Spesso sono tutti pronti a pugnalarvi alle spalle Per tornaconti personali, privati, sentimentali, monetari o di potere E il mio buon amico Cesare ne sa qualcosa Di sempre ne possiamo fare a bizzeffe Da Delpa30 che fece fallire l'ospedale di Virtual Life Solamente per far sì che poi I superiori di quell'ospedale andassero a lavorare del suo di ospedale Da Daewis22 che ha distrutto Bellic dopo quattro anni alle sue dipendenze Nella speranza di diventare un leader affermato di club A Giacomo Spicuzza che dopo due anni nei quali lo aveva aiutato a battere Giannue Voleva tirarmela in culo, fallendo miseramente peraltro A Checco Montana che nuovamente fa l'infame anche con chi come Archina Dopo il video lo difendeva Dicendo, in base al mio traduttore, che la voleva picchiare A Flaki che dopo essersi fatto 3k di fast pass ad un ice run Costruito da quattro persone Diede ai tre collaboratori solo 20 crediti Inizialmente per poi non rivolgere più loro la parola A volte persone di cui ci si fida sbagliano Magari un capriccio, chissà Ma non bisogna mai, e poi mai, dare il 100% di ragione a qualcuno Solo perché lo conosciamo e ci fidiamo È normale avere un minor sospetto Se diritti due persone in una stanza Fra cui uno sconosciuto e la tua ragazza, per esempio Il giorno dopo trovi la stanza distrutta E ovviamente incolpi lo sconosciuto, vero, no? Eh no, sbagli, caro mio Devi riflettere bene La sera prima, per caso, hai litigato con la ragazza Sì? Quanto pesantemente Potrebbe aver fatto questo tiro mancino per vendicarsi? Sicura che avresti incolpato lo sconosciuto? Movente Che motivo aveva quell'utente di distruggerti? Nessuno? Quindi perché lo avrebbe dovuto fare? La tua ragazza ha magari lasciato il pc acceso E mentre era alloggato il fratellino ha preso il controllo del personaggio E ti ha fatto uno scherzo? Oppure altre persone hanno l'accesso al suo personaggio? Insomma, molto probabilmente la colpa è dello sconosciuto Ma bisogna avere la mentalità aperta Essere pronti ad analizzare la situazione E non essere testardi e incolpare le persone a testa bassa O risulterete stupidi e ridicoli Proprio come Monicuta 2008 Quando mi accusò di averle distrutto il gioco Non so se vi ricordate E poi, quando lo ricostruì pochi giorni dopo Dopo manco 5 giorni dall'apertura TAC! Di nuovo distrutto Ma giusto, era stato Stin, no? Questo però, ragazzi, non vuol dire affatto Che non bisogna fidarsi di nessuno Ma che bisogna riflettere prima di agire Non dovete comprarvi gli amici con i crediti O con i furni Facendo loro regali dal valore magari per voi risorio Ma che per loro sono enormi Certo, per Natale, compleanno, posso capirlo Ma non che prendete 4 uova di moa E le gettate al vento in cerca di un po' di figa Quindi il mio consiglio finale è State attenti Se volete aiutare un amico Posategli quei furni che gli servono Non regalategli I rapporti cambiano I furni no O fate la fine di Santa 95 Che regala un bot appunto a Monicuta 2008 E quella subito lo rimuove dagli amici O del ragazzo di melancolia Talmente nessuno Che manco mi ricordo il suo nickname Che donò tutto alla sua ragazza E stessa cosa per il fidanzato di Giorgia la meglio Magari donate tutto ciò che avete alla ragazza E poi lei abbandona hub O peggio Vi lascia E non vi restituisce le cose Anzi magari le passa al suo nuovo ragazzo Molte abbine illudono altri abbine appunto di fidanzamenti vari O li ammagliano per ottenere rari furni O di solito il classico HC gratis Se sei una di quelle ragazze che si fa regalare l'HC Vergognati Dubito che non hai un euro al mese da spendere su un gioco E se lo fai perché ti vergogni di spendere soldi in un stupido giochino Come dici te Teniti conto che ti stai prostituendo Forse quello è molto più vergognoso, non credi? Rispetto a finanziare un gioco che senza ricariche chiuderebbe Vergognati di spendere centinaia di euro in borse firmate da sto cazzo Illucida labbra di merda che se vuoi del liquido sulle labbra sai bene cosa puoi fare O peggio ancora in sigarette perché già fumare è normale Spendere soldi autodanneggiandosi solo per farsi fighi Che poi vorrei capire chi Da dopo la seconda media possa ritenere figo chi fuma Mentre scioppare su abbo possa essere Da sfigati E se sei uno di quei ragazzi che pensano di conquistare Valanghe di figa Donando l'abbonamento abbo club alle tipe Renditi conto che sei solo un povero fallito e che ti stanno sfruttando Svegliati Quindi alla fine che avete imparato da questo video Che abbo non è una persona di cui fidarsi Un bugiardo Peraltro di testimonianze ne avute varie come questa Che il discorso sulla sua omofobia era solo una scusaccia Ma soprattutto spero che abbiate capito il resto delle mie riflessioni Quiz del giorno Come al solito dovete raggiungere i 50 likes a questo video E rispondetemi nei commenti a questa domanda Di che colore era il drago che abbo ha truffato a Federix Luxor Mettete quindi nella risposta il colore seguito dal vostro nickname Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e condividilo sui social Qua a sinistra trovate il mio ultimo video Correte a vederlo se ve lo siete perso In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale Infine ecco qua i social sui quali potete seguirmi Trovate il loro link qua sotto in descrizione Grazie della visione